Inquadra il regione. Inquadra che metto la scogasima dentro. Inquadra tutto qua. Inquadra che faccio la singolizzazione. Inquadra qua il dito. Se non è... Inquadra il giuline. 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 Inquadra pure il telefono. Guarda qua, connesso, stai guardando, si, guarda il telefono, 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 guarda il devi farvi vedere che sta registrando? Sì, ho fatto lo zoom Inquadra il telefono e cercare un po' di inquadrare anche il drone Inquadra il telefono Inquadra meglio le mani Inquadra il drone Leo però mi devi seguire Inquadra il drone Inquadra qua 56 0056 da vicino Chiaro che potete vedere Inquadra che io Inquadra che io fermo la registrazione Sì Inquadra il drone Inquadra Non lo perdere Deve essere continuo, capito? Inquadra Inquadra che tolgo la scheda Inquadra bene la scheda Guardate che tipo è Facendo zoom Fatelo vedere bene Va bene Continuo, allarga l'immagine Inquadra 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 il computer Inquadra che non c'è nessuna La canzone Inquadra 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 Va bene Il film registrativo Inquadra